Una ragazza poco più che ventenne ha deciso autonomamente in Veneto di operarsi per non poter avere più figli. Questa scelta è stata molto scalpore anche. Che cosa ne pensi e pensi magari anche che mettere al mondo i figli adesso sia un problema o comunque sia piuttosto oneroso? Beh penso che ognuno è libero di fare ciò che vuole con il proprio corpo. Certo ovvio ora al momento non è dei migliori per mettere al mondo dei figli però secondo me ci sono tantissimi altri modi per non rimanere incinta e magari in un futuro lei potrà decidere di rimanere incinta ma ormai ha fatto questa scelta e non si può tornare indietro. Allora io parto dal presupposto che ognuno ha la propria vita fa quello che vuole però penso che sia una cosa, un insulto a tutte quelle donne che non possono avere figli. Questo è quello che penso io. Dopo sì è vero ci sono dei costi elevati per avere dei figli visto che il caro vita aumenta, gli stipendi rimangono sempre quelli però è una cosa estrema, un atto estremo che ha fatto secondo me. Oddio penso che siano più che altro delle scelte da fare, logico che quando metti al mondo un figlio devi mettere in preventivo che comunque la tua vita si può stravolgere però se lo metti al mondo vuol dire che lo vuoi e sei disposto un po' a tutto. Allora io credo che per mettere al mondo dei figli ci voglia molta responsabilità però anche un pizzico di incoscienza perché altrimenti se devi aspettare di avere tutto in regola non li farai mai. Una scelta coraggiosa pensata sicuramente in base al suo stile di vita e probabilmente o lo rimpiangerà più avanti oppure avrà la conferma che quello che ha fatto è giusto. Se lei si sente di non poter dare ad un figlio l'amore che merita è giusto non farlo, non metterlo al mondo.